Cos'è la visione monoculare? Il termine visione monoculare può essere utilizzato in due modi diversi. Nel primo senso, si riferisce alla percezione visiva in cui gli occhi vedono in modo indipendente, piuttosto che agire come una coppia come fanno gli occhi umani. Nel secondo senso, è più propriamente definito menomazione della visione monoculare e si riferisce a una persona o animale che può vedere solo da un occhio. Questo può essere congenito o acquisito e può portare a menomazioni a seguito di cambiamenti nella percezione visiva. Molti animali vedono con visione monoculare, inclusi cavalli, pecore e lucertole. Questi animali hanno spesso occhi ben distanziati nelle loro teste, consentendo una visione molto ampia. Questo è particolarmente importante per gli animali in preda come cavalli e pecore, che devono essere in grado di individuare le minacce da più direzioni possibili. Il problema con questo tipo di percezione visiva è la mancanza di percezione della profondità. Poiché gli occhi non funzionano in concerto, è più difficile fornire informazioni utili sulla distanza dai tra gli oggetti. Questo sarebbe uno svantaggio per i predatori come i grandi felini, che di solito hanno una visione binoculare. Esistono altre variazioni nella percezione visiva tra visione monoculare e binoculare, a seconda della specie. Gli occhi sono disponibili in una varietà di stili, per così dire, compresi gli occhi attrezzati per una migliore visione notturna o a colori, così come occhi in grado di vedere in una gamma più ampia rispetto all'occhio umano. Le api, per esempio, possono vedere i segni ultravioletti sui fiori. Nel caso di compromissione della vista monoculare, un occhio è danneggiato e l'altro ha una funzionalità normale. A seconda del motivo della perdita della vista, l'occhio non funzionante può essere rimosso e sostituito con una protesi. Questo è spesso raccomandato quando ci sono stati traumi agli occhi e i tessuti dell'occhio sono morti o sono stati gravemente danneggiati. Nei casi in cui la perdita della vista è causata da traumi cerebrali o da altri problemi, potrebbe essere possibile lasciare l'occhio in posizione. Le persone con problemi di vista monoculare possono sperimentare alcuni problemi di vista. La loro gamma di visione è ridotta, in quanto hanno solo un occhio con cui vedere. Questo fa sì che le persone abbiano un lato cieco, dove non possono vedere lungo un lato del corpo e possono mancare segnali visivi, che vanno da una cameriera in avvicinamento a una macchina in procinto di unire le corsie. Anche la percezione della profondità è scarsa e le persone dovranno adattarsi a questo compito per svolgere le attività in sicurezza.